E ciao ragazzi, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Iscrivetevi al mio canale, chi non l'ha già fatto, lasciate un bel palizzo in su se vi piace. Oggi continuiamo con Distruggi Questo Diario. Già la volta scorsa abbiamo già iniziato a fare un po' di pagine, fino a graffia con un oggetto affidato. Quindi dopo aver fatto questa pagina, ci sarà strofina con un strofino un po' usando una matita. Quindi direi di iniziare subito. Iniziamo a strofinare. C'è scelto un po' però noi abbondiamo, bisogna distruggerli. Ci sono ancora i graffi. Perfetto, abbiamo strofinato. Vieni amore! Guardate la mia gatta, che bella! Scarabiochi all'impazzita intensamente, con spericolato abbandono. Pastrugniamo. Iniziamo. Ah, senza abbandono. Pericolato abbandono. Wow, se non vorvi, ci sembrano tsunami. Wow. Wow, adoro. Vabbè. Direi che abbiamo abbastanza fatto. Allora. Strisce da staccare. Strappa tutto. Vabbè, sono dettagli. Tanto va distrutto. Non ce ne frega di come sono le strisce, noi strappiamo e basta. Quello che ci interessa. Ok. Direi che abbiamo strappato abbastanza. Incolla, pinza, attacca questa pagina. Allora, ragazzi, io non ho la pinzettatrice, però ho la colla, quindi la attaccheremo con la colla. Iniziamo. Wow, incolliamo. Mamma, che bello. Incollare. La cosa più bella di tutti i bambini. Wow, che bello. Ok. Disegni alcune linee in autobus. In treno, mentre ti muovi, mentre cammini. Allora, direi che dovrei camminare per forza, perché in autobus non ci andiamo mai. In treno non ci andiamo mai. Camminiamo. Ok, le mie linee perfette. Non ho mai visto delle linee così belle, guardate. Riempi questa pagina di cerchi. Cerchio. 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 Cerchiamo. Ok. Mastica questo. Attenzione, non ingerire. Bisogna masticare la pagina. Seriamente, ma non è igienico. Buona? Sì, buonissima. La cosa più buona è che abbiamo avvito in vita mia. No, va bene. Croni, bevo un po' d'acqua. No, bisogna farlo veramente. Certo. Vabbè, sentite ragazzi, non sono brava a prendere. Vabbè, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Wow, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Wow, che bella grammatica. Abbiamo fatto il nostro imbuto, ora ci dobbiamo mettere l'acqua. Ok, creiamo l'imbuto, arrotolandolo. Ok, e da qui bisogna vedere. Iniziamo. Non si bagna la canzone. Ok, ok. E' impossibile. E' impossibile. No. Vabbè. Vabbè, era meglio mettere il film. Io ho maniche corte. Vabbè, vabbè. Qui c'è scritto a cartoccia. Vabbè, a cartoccia. Wow, che bello cartocciare le pagine. Il mio sogno fin quando ero bambina. Wow, wow, wow. Impacchettiamo con questa pagina un musetto, ok. Quindi, strappiamo la pagina perché sennò non si può impacchettare. Giusto, almeno a quanto penso. Se è impossibile, devo lasciare l'oggetto lì dentro. Lo sbianchino, wow. C'è il giorno più bello della mia vita è questo oggi. Vabbè. Impacchettiamo sto oggetto. Wow, adoro. Impacchettiamo sto oggetto. Impacchettato. Lo spacchettiamo prima di metterlo per scuola. E adesso iniziamo con questo. Pittura con la lingua. Mangio una caramella colorata e lecca questa pagina. Ce l'ho, ragazzi. Torno subito. Ok. Ne ho presa alcune. Non è quello l'altro. Oddio. Cioè, direi che è fatto, giusto? Che schifo. Allora, almeno una cioccolatina buona. E ciao, ragazzi. Il video di oggi si conclude qui. Lasciate un bel like se vi è piaciuto. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao. 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 Grazie a tutti.